Ciao a tutti, sono Donato Breamonte, titolare di FidoSpeed, ho fondato Rossini TV per fare una pubblicità per far conoscere il mio servizio che è prevalentemente locale. Sono molto soddisfatto, ho avuto degli ottimi feedback da parte dei clienti che hanno detto abbiamo visto la tua pubblicità, abbiamo conosciuto il servizio grazie a Rossini TV, alla pubblicità che avete fatto, quindi sono molto soddisfatto e non posso che non consigliarlo anche ad altre attività che vogliono farsi conoscere perché è veramente un servizio fatto bene e gradevole, quindi consigliatissimo. Consegniamo da lunedì al sabato FidoSpeed, farmaci a domicilio.